Lo slogan recita 5 milioni di buoni motivi per sostenere l'impresa e descrive a dovere il plafond, appunto 5 milioni di euro fino a esaurimento, messi a disposizione delle realtà imprenditoriali medie e piccole del territorio, dalla banca del Valdarno. Vantaggi e agevolazioni sono rivolti alle aziende che investono in innovazione e occupazione. 5 milioni di euro sono dettati dal cosiddetto ottimismo della ragione. Sì, l'ottimismo della ragione perché a mio avviso in questo periodo noi siamo stati segnati, da una parte dalla negazione della crisi e dunque di fatto l'idea che comunque tutto fosse uguale a prima o tutto si potesse risolvere con una falsa speranza. Dall'altra parte c'era e c'è ancora purtroppo un forte pessimismo, tra questi due estremi c'è l'ottimismo della ragione e crediamo con questo plafond di poter dare questo ossigeno e per dare anche una risposta tra l'altro alle realtà politiche, associative che da diversi mesi ci ricordano che le banche hanno avuto un'iniezione di liquidità. Adesso una parte di questa liquidità si può davvero destinare anche al territorio. Noi però lo facciamo, l'abbiamo fatto nel 2012 con circa 30 milioni di nuovi impieghi alla piccola impresa. Lo rifaremo quest'anno con altri tanti milioni d'euro, però in questo caso, ecco il punto, 5 milioni destinati a questo progetto. Sono stati i vertici dell'Istituto di Credito Valdarnese a illustrare nella sede centrale di San Giovanni Valdarno i contenuti e a chiarire gli obiettivi dei finanziamenti agevolati ai rappresentanti delle associazioni di categoria. L'intervento coglie senza alto nel segno per quanto riguarda gli obiettivi e le finalità che si pone e direi in maniera particolare quando poi si parla di finanziamenti che riceverebbero una maggiore agevolazione di quella già prevista, qualora questi finanziamenti si indirizzino verso sviluppo di progetti innovativi di impresa oppure si indirizzino a degli investimenti che poi possano favorire un ritorno in termini occupazionali. Il plafond di finanziamenti che abbiamo previsto sconta un'ulteriore agevolazione per quanto riguarda proprio le condizioni di tasso che vengano applicate.